Lo sport ha da sempre valore sociale, ma soprattutto lo sport quale capacità di restituire un'alternativa. E oggi noi qui abbiamo a mattina il protagonista di una storia emozionante, una storia di rivalsa. La storia di un atleta che grazie a tantissimo impegno, sudore e dedizione ha utilizzato la sua disciplina sportiva, quale la kickboxing, per risollevarsi e diventare un grande campione. Insomma, una storia di grande coraggio, di grande rivalsa, di riscatto sociale, che racconteremo appunto proprio con lui, con il protagonista di questa storia. Il buongiorno a Cristian Lubrano. Bentrovato Cristian, grazie per l'ospitalità e saluto a tutti quanti. Grazie a te perché oggi ci raccontare la tua storia, la tua storia che potrà essere un monito per i giovani, per chi ci ascoltano e ricordiamo anche che questa storia, la tua, sarà al centro di un docufilm così titolato Oltre le quattro mura. Però facciamo un passettino indietro se sei d'accordo, perché io parlerei proprio dall'inizio della tua storia, che partirebbe da un evento un po' tragico, un po' traumatico, ovvero la rottura di Tibia e Perone. Poi dopo questa rottura arrivano dei problemi giudiziari nel 2019, poi dopo l'arresto e ancora la vita in carcere. Ma proprio qui c'è un momento importante, perché da qui comincia la tua rinascita, sia legale, ma soprattutto quella rinascita umana. Ed è quello che vogliamo sentire da te quest'oggi. Allora, io praticamente è successo che, come ogni anno, mi stavo preparando per il mondiale o l'aeroporto di turno. In quell'occasione dove andavo a fare un mondiale in Ungheria, era il 2017-2018. Per la kickboxing. Per la kickboxing, sì, parliamo di kickboxing. E niente, stavo a ridosso del mondiale. Dopo tre mesi di preparazione abbastanza faticosa, una settimana dal mondiale feci un incidente con lo scooter, tornavo dalla palestra su una superstrada, era di sera, era buio, e andai a sbattere, una macchina mi investì, andai a sbattere con il garderello dove si tranciò la gamba e ebbi una frattura esposta della Tibia e del Perone. Cioè, al momento vedi praticamente il piede girato, l'osso da fuori. La prima cosa che pensai ebbi ancora la lucidità di prendere un foulard che portava appresso e di stringere. Poi, fortunatamente, arrivò il mio angelo custode che si chiama Toni, che l'ho conosciuto in quel momento tragico, che passò e fece fermare il traffico perché stava in curva, c'erano macchine che venivano a alta velocità. Quindi mi accostai con le mie forze, pian piano, e arrivò lui e facendo luce con il cellulare, fermò il traffico e poi venne l'ambulanza. Da lì incomincio il lungo calvario. Cioè, praticamente sono stato otto mesi con un fissatore esterno, che purtroppo, dopo otto mesi di questo fissatore, quando me lo torse o mi trovai una gamba, c'è il piede storto, di 21 gradi. Cioè, non fu messa bene in asse la tibia. A che quindi mi hanno dovuto rompere un'altra volta, andrei, sono stato spostato in un altro ospedale, e ringrazio il dottor Castaldi, che mi si illizza perché era una gabbia circolare che ogni giorno dovevo avvitare con i perni per addirizzare la gamba. Doloroso, presumo. Altri otto mesi, altri otto mesi di questi, finito questo che ho tolto, il mio primo pensiero era quello di tornare a combattere. Quindi incominciare la fisioterapia, riprendere un'altra volta perché il muscolo aveva perso la tonicità, quindi era, tenevo una gamba proprio magrolina, e incominciare ad allenarmi, e poi dopo è successo che un'altra disavventura, mi trovai verso le 4 di notte i carabinieri a casa. Vediamo le immagini del campione che sei. Alle 4 di notte mi vennero a prendere i carabinieri a casa, con un mandato di 800 pagine, e mi trovai coinvolto in questa situazione giudiziaria, in un'associazione camorristica. Vabbè, questo è stato, ci sono voluti un anno e mezzo per uscire fuori da questa cosa, assolto dall'associazione, e quindi questo anno e mezzo, diciamo, è stato un percorso, perché comunque da ragazzino io i miei errori li ho fatti. Quindi, diciamo, è stato il nocciolo della mia vita a passare quell'anno e mezzo in carcere, dove è stata la mia rinascita, perché stando lontano dagli affetti, stando lontano dai miei genitori, ormai anziani, ho perso anche papà per via del Covid, non facendo i colloqui e tutto, allora, diciamo, lì è stata una rivarsa, perché poi che è successo? Siccome lì vedi la situazione che è quella che è, che comunque c'è poco e nulla, non c'è un'alternativa, allora la via è stata lo sport, sì. Da qui è nata, ecco, questa tua voglia di rivarsa, questa tua voglia di riscatto, però mi farebbe piacere fare ancora un passettino indietro, perché comunque prima di questo evento tragico, doppio evento tragico, tu in realtà hai sempre amato lo sport, quindi ti chiedo quando nasce questa tua passione per lo sport e se in questo percorso hai avuto accanto a te una persona determinante che ti abbia aiutato nel percorso. Sì, allora, io ero piccolino, vedevo con mio padre i film di Bruce Lee, diciamo che è stato l'artificio Bruce Lee, avevo i miei 5-6 anni, al che mio padre mi chiese che sport volevo fare, e io gli chiesi di fare il Kung Fu, che poi in Italia ancora doveva arrivare. All'82 entramo in una palestra di karate e incominciamo con il karate, poi dopo qualche anno arrivo la kickboxing in Italia, lo chiamano il karate americano, e da lì incominciamo a praticare la kickboxing. Quanti anni avevi? Avevo 6 anni, ho incominciato a 6 anni, poi a 8-9 anni abbiamo incominciato con la kickboxing, abbiamo incominciato a prendere tutte le cinture, incominciato a fare le carri regionali e tutto. Quindi, quando sono entrato in questa palestra, c'è il capitale che entrai con papà per vedere la palestra, e stavo facendo l'esame del secondo Dan, il mio maestro attuale, dell'Oaracri, che fece un calcio al volo con una spaccata, ruppe le tavolette di legno che mantenevano i due colleghi, e quindi rimasi affascinato, ho detto papà, vedendo sempre Bruce Lee per televisione, e poi vedendo nel reale della situazione, papà voglio fare questo. Il risultato che ecco, poi col tempo sei riuscito a portare avanti. Col tempo sì, abbiamo portato, il mio maestro è stato quello, il mio maestro e la mia goccia, Anna Sorrentino, sono quelli che mi hanno portato, sì. Prima e dopo l'esperienza del carcere, ti chiedo. Io ho sempre combattuto, ho sempre fatto attività agonistica, abbiamo incominciato con i regionali e interregionali che potevamo sempre risultato, e poi abbiamo incominciato a vincere anche a livello nazionale, e poi siamo andati a livello internazionale. E poi sei infatti perché da carcere mondiali il gradino più alto del podio agli europei di Antalya 2022. Cosa ti ha spinto, ecco, anche in quel periodo un po' burrascoso, molto burrascoso, anzi, a non mollare mai, e a credere che proprio dal carcere potesse partire la tua rinascita, la tua rivalsa sociale, e poi soprattutto anche personale, presumo, non solo sociale. Sì, io avevo sempre, allora innanzitutto ero convinto di me stesso, della mia, come si dice, ero sicuro che sarei uscito da lì dentro, perché stavo a posto con la coscienza. Dovevo solo aspettare... Perché è risolto questa parentesi, è risolta. Sì, è risolta, quindi avevo solo da aspettare. E in quel momento, diciamo, io mi pensavo... Qua stiamo vedendo te, nella fase di grande allenamento. E tutta la preparazione dell'estate che mi ha portato a vincere l'Europeo, mi sono fatto il mazzo. E niente, comunque ero lì, e il mio pallino era quello di uscire e ritornare a combattere. Quindi mi allenavo già lì dentro, perché comunque mi portavo da mettere a posto anche la gamba che teneva quel problemino. Quindi mi sono sempre allenato. Nel frattempo però che mi scrivevo con gli amici, io guardando quella finestra che era la cella, io l'ho fatta dentro un hashtag. Infatti io mi firmavo sempre con questo hashtag che era la cella e scrivo oltre le quattro mura. Dico, quando esco da qui io devo fare qualcosa. Cos'è con te un libro? Questo è il libro, sì, è il libro perché poi in tutto questo... Diciamo, è stato un anno bellissimo da quando sono uscito. È stato un anno bellissimo perché oltre alle vittorie sportive, diciamo, c'è stata la rivarsa, stiamo lavorando in palestra, lavoriamo nel sociale perché aiutiamo un canile che sta a Ponticelli. Dintanto con i miei amici facciamo il giro per i senza tetto per portare pasti caldi, coperte, plaid e tutto. Tutte iniziative. Oltre quattro mura è diventato un progetto, quindi l'ho fatto diventare un progetto. È bello che ne parliamo quest'oggi perché per l'appunto oggi la tua storia diventa fonte di ispirazione a 360 gradi per tutti quei ragazzi che magari attraverso un periodo non facile nella propria vita, no? che vivono comunque in una situazione di base molto disagiata, che non hanno un punto di riferimento valido. La tua storia, oltre le quattro mura, racconta quanto lo sport possa essere quello strumento salvifico, no? Per riuscire a trovare la strada giusta, quel percorso giusto per venire fuori da quelle che sono un po' le brutture della vita. Sì, infatti, infatti. È importante oggi la storia di ragazzi. Napoli è una città che porta una linea sottile tra il bene e il male. Non ci vuole nulla a cadere dalla parte sbagliata. Bisogna stare vicino, soprattutto a questi ragazzi che a volte stanno allo sbando. Oltre ai genitori c'è bisogno di chi comunque segue i ragazzi. e quindi, diciamo, lo sport aiuta tanto, aiuta tanto perché la palestra diventa anche una seconda casa. Si sta con i ragazzi e quindi si aiutano. Poi si cerca, perché comunque è anche una disciplina. Certo, una disciplina, dallo sport in realtà è una disciplina di vita. Ci sono delle regole da rispettare, quindi te lo riporti anche nella vita. Esatto, nella vita. Lo sport proprio in generale, no? Sì, sì, è questo. I sacrifici che fai, durante l'allenamento, ti fai tanti sacrifici. Sacrifici che sono un po' ripagati. Sono ripagati. Io non sono convinta, stra-convinta. Sì, è così. Tra l'altro, infatti, ecco, il risultato, la storia che iniziamo raccontando è proprio questo, che dopo tanta pratica, sudora ed edizione, alla fine i risultati con importanti arrivano, ma al di là dei risultati importanti della vittoria al mondiale o anche all'Unione Europea, è una vittoria che si ha verso se stessi, perché lo sport ti educa e ti fa stare veramente, ti approccia alla vita in un'ottica, in un'ottica, in un'ottica, in un'ottica totalmente diversa. Tra l'altro, volevo raccontare al pubblico anche che il 12 gennaio, nella sala capitolare del Senato, è stato presentato anche un estratto del tuo docufilm alla presenza, tra l'altro, del senatore Cantalamessa, Vito Crimi, altro senatore, e anche della senatrice Elisa Pirro. Che momento è stato per te? Allora, innanzitutto, volevo... Che emozione hai respirato? Devo ringraziare anche Milva Cerveni, che è la mia manager, che si è appassionato della mia vita e diciamo l'ha detto, portiamola fuori perché deve essere un messaggio. È stata un'emozione perché arrivare al Senato e che diciamo il messaggio c'è stato, hanno accolto quello che ci siamo detti, come stiamo parlando ora qui, il docufilm ha lasciato un messaggio importante. Quindi da lì spero che... Parta il monito, no? Parte il monito, perché stiamo chiedendo anche... Comunque, sì, i ragazzi, diciamo, ha tutto il calcio oggigiorno, economicamente parlando pure. Quindi magari se una piccola fettina spostarla a tutti gli spot, tra virgolette minori, perché comunque ci alleniamo in palestre che non sono al top... E questa è la problematica dell'impiantistica partenopea, di cui parliamo molto anche in trasmissione. Vedo, oggigiorno, e anche lavorare pure negli spazi aperti, soprattutto adesso quando ritorneranno a tutta la primavera, fare questo lavoro qui, far conoscere che ci sono altri sport, farli crescere, poi magari ci sarà anche un tornaconto per i ragazzi, per i palestri, che può aiutare perché è dura. Restituire degli spazi dedicati, no? Ai ragazzi, e quindi soprattutto affinché loro possano fare lo sport, perché anche lo sport, così come l'istruzione, è una possibilità che deve essere data veramente a tutti. Tra l'altro, ecco, proprio come monitor ai ragazzi, hai gli stessi, no? Ladoi tu rappresenti una fonte di ispirazione, decidi anche di pubblicare un libro. Fa che sia sempre la penultima volta. Ecco, questo è un altro messaggio importante. Che cosa vuoi dire con questo pregio? Soprattutto con questo messaggio. questo è un messaggio perché dire a tutti i ragazzi che anche se vedi che hai perso, che hai perso sia sportivamente anche sotto l'aspetto lavorativo, magari si chiude una porta, non ti devi mai dare che dire che sia stata l'ultima occasione. Che sia finita. Che sia finita. Allora quindi ti dici, fa che sia la tua penultima volta, perché ci sta sempre il dopo che... C'è sempre una penultima volta. Una penultima volta. Quindi ti dai sempre... E non ti fa raggiungere la vetta, no? Però è proprio quello poi la cosa bella, insomma l'entusiasmo, proprio nel proseguire, nel avere quella determinazione, quella postanza. Poi dopo ci sta sempre una speranza dietro che tu la devi coltivare e andare avanti. Che cosa vogliamo dire oggi ragazzi? A ragazzi... A questo messaggio. A un messaggio, ragazzi, come... Io ne sono una fonte... Testimone, sei ecco, esempio diretto. Mi sento come tutti quanti, un ragazzo semplice della porta accanto, come ci sono riuscito io, anche in tardi età, arrivare alla vetta del podio in Europa, spero di riconfermare anche al mondiale dell'anno prossimo. Bocca al lupo. Grazie. Lo possiamo fare tutti quanti, perché basta tanto impegno, tanto... Volontà. Tanta dedizione, tanta volontà. E come hai detto tu, lo sport, diciamo, la volontà ripaga, quindi ci crediamo lavorativamente, anche nella vita normale, nelle storie d'amore anche, per cari. Certo, certo. Cristian, stiamo raccontando questa tua storia, ti ringrazio per essere venuto qui, per averci regalato la tua testimonianza. La tua storia, diceva, è una fonte di ispirazione per tutti. Posso chiederti però, in ultimo, dopo tutte queste vicende che ti sono capitate personalmente, oggi chi è Cristian? Allora, oggi Cristian è una persona molto più riflessiva, molto più saggia, comunque ho i miei 46 anni, e vedo le cose sotto un altro aspetto. Prima ero un poco più impulsivo, adesso è importante anche contare a volte molto fino a 10, ed essere un poco più per il prossimo, perché c'è tanto bisogno qui per strada, oggigiorno, perché siamo tutti quanti zitti pedalare, testa bassa. E' troppo individualismo. E' troppo individualismo. E' un po' concentrarci. E' bello vedere sì. Donarsi agli occhi. Donarsi agli altri. Eh sì, infatti. Beh, complimenti. Grazie. Ci sarà sicuramente ancora tanta strada che dovrai percorrere. Io intanto qui ti ho portato un cappellino. Oh, grazie. Ok, questo è tuo. Grazie, grazie mille. C'è l'hashtag. Eh, questo è Over the Four Wars. Ok, lo porti questa estate così. Eccolo qua. Voglio aiutare quando vai al mare. Grazie, Cristian Lubrano, oltre le quattro mura, con il suo docufilm. Ciao. Ok, ciao.